Marino Vigna, il ciclismo è sempre bello, ma vedere questi ragazzi che corrono riempie il cuore. È vero, hanno un impegno che forse dovrebbe imparare qualche corridore di quelli che dicono veri, qualche professionista, fanno veramente dei sacrifici enormi. E poi la fatica, oggi 35 all'ora su quelle strade lì, con quelle carrozzine, sono veramente da ammirare. E che tappa oggi con Assisi sullo sfondo? A parte il posto che è stupendo, vengono da tutto il mondo per vederlo. Io ho la fortuna di essere, non dico di casa, ma con Petrignano ho avuto un rapporto lunghissimo. C'era Puccio Salvatore che era allievo quando io ho cominciato a frequentare Petrignano, perciò sono tanti anni. E torno sempre volentieri, l'ospitalità è enorme, la cucina è eccezionale, il vino migliora ogni anno. Veramente è un posto in cui si torna volentieri. È un po' lontano da Milano, però vale il sacrificio. Grazie. Grazie. Grazie.